ok ragazzi oggi si rientra verso casa però guardate che fischia posto davvero fantastico ragazzi fantastico consigliatissimo zona del diciamo passo del cerro infatti adesso andrò a fare il passo del cerro bello scendere poi passo caldarola e andrò a visitare cioè a vedere un po di roba un po di queste stradine qua ragazzi anche lì e poi si ritorna verso casa però è davvero davvero bel posto consigliatissimo per un weekend ci sta ci sta passo del cerro ragazzi subito così quindi questa è la strada del passo del cerro e lo faremo in discesa asfalto nuovo di pacca ah comunque mi dimenticavo di dirti di dirvi che il posto dove dormito davvero spettacolare ve lo consiglio quindi vi lascerò magari il link dei loro contatti in descrizione così che possiate venire in queste zone se volete anche per notare proprietari davvero molto gentili quindi consigliatissimo posto tranquillissimo per una weekend immersi nella tranquillità è l'ideale e quindi link in descrizione di questo posto e adesso in teoria dovrei dovrei andare in un punto panoramico almeno credo qua ce lo sto più che ce l'ho io ma che spettacolo ragazzi forse stradelline Che strada c'è! Wow! Spettacolo ragazzi! Guardate qua! Che bello! Che bello! Spettacolo ragazzi! Spettacolo ragazzi! Spettacolo ragazzi! Grazie a tutti. 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 Bestia. Bello. Guarda qua. Mamma mia. Spettacolo. Mi sto proprio. Spettacolo. ma... 15%... che stradella. Azzano. mettere a tutti. e poi... ragazzi venite a fare dei giri in queste zone perché secondo me ne vale davvero la pena ragazzi ne vale davvero la pena quindi vi ringrazio per aver seguito questo video e noi ci vediamo alla prossima e ciao 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 godo come un ricciolo va qua va qua